Ad oggi non abbiamo notizie certe, quello che abbiamo fatto, che faremo in giornata sia noi che il Consorzio M4 è chiedere spiegazione della situazione e quindi avere la conferma che si vada avanti bene perché il punto è che fino ad oggi, soprattutto negli ultimi mesi, si è proceduto con grande speditezza e si è recuperato anche un po' di tempo per sussurrare i problemi che si hanno quando si scava e quindi sarebbe un peccato per qui. Al momento l'unica cosa che so e che facciamo è chiedere spiegazioni a loro stessi.